Io sono qui, sono qui insieme con la fondazione per stare con i bambini. I bambini domandano giustizia e hanno bisogno di certezza, di quel senso di legalità che è il fondamento stesso della Repubblica e anche dell'azione di tutti noi che siamo qui oggi. Sono qui per i bambini, il ministro della scuola è qui con i ragazzi della scuola. Sergio Mattarella ha detto in maniera molto chiara la scuola deve essere il luogo che deve reclamare verità e la verità va data fino in fondo. Siamo qui anche per questo e quando, come inizio giustamente, il presidente Teresi vede questi bambini, quest'area gioiosa non è un'area senza memoria, è un'area che pretende memoria e la memoria è memoria di verità, assolutamente. Il centro studi Paolo Erita Borsellino non ha mai consentito alle istituzioni di fare passarelle. L'invito al ministro Bianchi è un atto di riconoscimento del grande contributo che il ministero ha voluto dare, ha sempre dato alla organizzazione di questo evento del 19 luglio e anche alla vita dello stesso centro studi durante tutto l'arco dell'anno. Grazie.